Il colpo della notte è la gioielleria Sianelli, qui al centro commerciale dell'ESP di Ravenna. I banditi sono introdotti dentro il grande centro commerciale alle 4 del mattino, hanno sfasciato le vetrine d'ingresso, sono entrati dentro la gioielleria di Sianelli e hanno rubato tutto quello che hanno trovato che era presente negli schiaffati.